Un piccolo grande aiuto in un periodo non certo facile per molte famiglie veronesi che si vedono in difficoltà per il pagamento dei canoni di affitto. È il Fondo a Sostegno degli Affitti, un'iniziativa non nuova ma che certamente può essere importante per chi si trova in difficoltà. È un ulteriore aiuto per le famiglie e per le persone in difficoltà, di concerto tra il Comune e la Regione che porta avanti questo progetto su base regionale in un momento come questo di grande difficoltà economica. È una piccola, grande per tanti, boccata di ossigeno. Stiamo parlando di 650 mila euro, il cosiddetto Fondo a Sostegno degli Affitti in un bando in cui chi ha le caratteristiche sotto un determinato ISE che versa in uno stato di oggettiva difficoltà può accedere a questo contributo che, ripeto, in un momento come questo è sicuramente per tante famiglie un grande sollievo. Un'iniziativa, dicevamo, non nuova. Il precedente aiuto riguardo agli affitti era stato erogato fino al 2015 con la cifra messa a disposizione, sono, lo ripetiamo, 650 mila euro, si dà una mano alle famiglie a pagare i canoni di affitto per gli anni 2018 e 2019. Tra i requisiti previsti per ottenere questo aiuto straordinario per l'abitare ci sono la residenza in Veneto, non disporre di altri alloggi in proprietà, non avere risparmi accantonati superiori ai 20 mila euro e non avere usufruito sinora di altre forme di sostegno per pagare il canone di affitto. Allora, per accedere ci sono più modalità. Si può andare o presentando una domanda direttamente online, dopo daremo le indicazioni, c'è tutto pubblicato sul sito, oppure si può accedere presentando le domande ai CAF convenzionati, anche i CAF sono sul sito, o presentando con domanda raccomandata con ricevuta di ritorno ai servizi sociali del Comune, o a mano allo sportello dei servizi sociali del Comune. Allora, bisogna avere, sono due anni, il 2018 e il 2019, bisogna avere un indicatore Unisei inferiore ai 15 mila euro. L'importo è consistente perché sono circa, come ha detto il Sindaco, 540 più 100 mila di finanziamento del Comune, 640 mila euro, quindi un bel importo, per gli affitti relativa agli anni 2018 e 2019.